Aurora Ramazzotti e Sara Daniele protagoniste di un piccolo incidente Aurora Ramazzotti, la figlia di Michelle Lunsicher alcune ore fa ha fatto preoccupare moltissimo i suoi numerosi follower. La ragazza era in compagnia della sua cara amica Sara Daniele, figlia del compianto Pino, quando è accaduto un piccolo incidente. Andiamo a vedere cosa è successo Aurora Ramazzotti fa preoccupare i suoi coloni Aurora Ramazzotti e Sara sono due cari amici, infatti si frequentano sin da piccolo. Infatti, appena loro impegni lo permette. Le due ragazze trascorrono insieme qualche ora per farsi delle confidenze. Alcune ore fa, però, mentre si trovavano sul lungo Tevere è accaduto un piccolo imprevisto Nello specifico, la figlia di Pino Daniele e la primogenita di Michelle Lunsicher stavano correndo sul bordo del fiume romano quando Sara ha avuto un incidente. Subito dopo l'accaduto Aurora ha postato il tutto attraverso delle stories sul suo profilo Instagram Sarà Daniele è scivolata e si è sbucciata un ginocchio Con molta probabilità Sara Daniele, durante la corsa sul lungo Tevere, sarà scivolata su qualche foglia ed è caduta per terra. La perdita di equilibrio ha comportato una piccola ferita all'altezza del ginocchio destro. Infatti sulla foto postata sul social si vede la vita di Aurora Ramazzotti con del sangue sulla rotola all'interno di un supermercato della Capitale Per fortuna è stata un piccola caduta che non ha comportato delle grossi ferite, tuttavia i seguaci della ragazza si sono un po' allarmati. Dopo essersi accertati di stare bene, la figlia della subretto svizzera Michelle Lunsicher ha deciso di postare tutto tra le stories di Instagram Come tutti ben sanno Aurora è una ragazza molto ironica, quindi anche in questa occasione ha voluto sdrammatizzare facendosi qualche disampa. Sopra lo scatto in questione, Lara Ramazzotti ha scritto questa di Vastalia Quando decidi di andare a correre sul lungo temere